Tra il 12 al 16 settembre riapre il giardino delle idee al giardino pensi della provincia di Aghezzo, Roberto, che cartellone ci attende? Un cartellone per tutte le orecchie perché il 12 settembre partiamo alle 21 con Giancarlo De Cataldo, chi ha amato il romanzo criminale amerà anche questo romanzo sbirre, tre racconti scritti da De Cataldo, De Giovanni e Carlotto. Il giorno dopo ancora libri diversi perché abbiamo Andrea Vitale, il massimo narratore italiano con una storia ambientata su Bellano simpatica e irriverente con quella furbizia tenera che fa sempre divertire. Venerdì 14 sempre alle ore 21, Selvaggio a Lucarelli, qui è consigliato per gli uomini non venire perché si parlerà di casi umani, cioè tutti quegli uomini che hanno rovinato le vite alle donne, quindi un incontro, era scherzo, ma insomma principalmente dedicato alle donne. Sabato e domenica intanto dico alle 21, alle 21 abbiamo il sabato Laura Morante non ha bisogno di presentazioni, l'attrice con Brividi Immorale, una raccolta di racconti bellissimi e domenica sera ci teniamo molto perché torniamo alla grande saggistica, Claudio Cerasa, il direttore del Foglio, a me piace molto, avremo un bravo presentatore a introdurre le domande, con un libro spigoloso ma molto interessante, abbasso i tolleranti e questo è il programma per gli anziani come me e poi la novità che abbiamo sabato e domenica alle 17, Giardino delle Idee, Next Generation, generazione nuova, prossima, abbiamo due star del web perché sabato alle 17 Elisa Maino, 4 milioni e mezzo di follower su Musical.ly, 1 milione e mezzo su Instagram, testimonial di Chico, una ragazzina di 15 anni che sta spopolando ormai da due anni e mezzo e domenica ancora più famosa forse perché abbiamo Eleonora Gaggero, attrice, protagonista della serie Disney Alex & Co. Vediamo un attimo se anche i ragazzi fra i 12 e i 16 anni vengono al giardino e si rendono conto in questa maniera che i libri sono un ponte importante per le gare fra noi vecchiarelli e i loro giovani.